Onorevole Michele Visconti, Presidente della Commissione Sanità alla Regione. Si parla tanto del registro dei tumori, sono anni che si cerca di fare questo registro, ma fino ancora non è stato messo in campo. Cosa c'è di concreto adesso e che possibilità ci sono che venga effettuato? Dopo tanti anni stiamo portando avanti in Commissione Sanità il registro dei tumori, che se ne parlava da più di 30 anni forse. Oggi finalmente abbiamo fatto già la prima lettura in Commissione, sicuramente porteremo nella prossima Commissione di nuovo quasi la bozza definitiva e io credo che prima di Pasqua proveremo il registro dei tumori della Regione Campania. Quanto è importante avere questo registro dei tumori onorevole? È importantissimo perché il registro dei tumori per la Regione Campania significherà avere un monitoraggio completo del territorio dell'intera Regione Campania quindi sapere l'impatto ambientale sulle collettività e sulle popolazioni e qui dare ai cittadini anche un momento di conoscenza dei luoghi, dei posti e quindi come c'è l'interazione con il territorio e con l'ambiente. Questo significherà quindi conoscere e quindi tracciare per rintracciare e arrivare appunto alla consapevolezza di essere accompagnati in quello che è il momento della nostra Regione Campania da un punto di vista sanitario ed oncologico. Grazie a tutti.